Un'invio a tutte le scuole che ancora non hanno occupato! Occupiamo! 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 I primi motivi sono la legge aprea, in cui abbiamo laboratori chiusi, ate inagibili, palestre inagibili. Poi stiamo occupando anche contro la provincia, il quale non ci passa fondi per aggiustare la scuola. Diciamo contro le prove invalsi che usciranno quest'anno all'esame, nella terza prova d'esame, perché per concludere, dobbiamo concludere obbligatoriamente tutto il programma ministeriale con una cosa quasi impossibile da fare, che nessuno ci riesce. Al Nervi si protesta anche per altri motivi legati alla struttura della scuola? Sì, infatti abbiamo anche problemi igienico-sanitari e strutturali, perché abbiamo una palestra inagibile, abbiamo un tetto che nel momento in cui viene a piovere, cioè si piove addosso. Poi i laboratori, abbiamo tanti laboratori, ma purtroppo la provincia non ci finanzia, non ci dà i finanziamenti, i fondi per aprire questi laboratori. E quindi siamo costretti a lavorare nelle classi, noi soprattutto che facciamo disegni con dei fogli abbastanza grandi, ci dobbiamo un po' arrangiare. Abbiamo laboratori di chimica, di fisica e purtroppo non abbiamo modo di utilizzarli.